non è parruèo, 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 parruèo non è parruèo, parruèo è parratone e non ci direi all'inizio ma parruèo o parruèo? no, parruèo ma perciò tu la porti la facciamo a portare libera non è che tu e i parti cominci e noi piano piano ti sfottiamo è una cosa migliore parruèo o parruèo? no ancora non parla nessuno no no è bello che si parla parruèo o parruèo? e tu cominci non è parruèo parruèo o parruèo? non è parruèo e tu parli hai capito? però ha desregistrato attacco allora il sabatomo quartet vi ha presentato l'ultimo lavoro discografico sangue e latte hanno suonato per voi solo per voi Buzuki Tamburelli chitarra e mandolino e quant'altro Roberto Pozzo alla chitarra al mandolino e alla voce Antonio Ungaro al basso e alla voce Michele Petrone alla chitarra e alla voce il fratello di Antonio Ungaro ci slengo Ungaro alla batteria al caon peruviano e a varie percussioni a rumori funesti e funerei Arcangelo Pagliaro per ultima ma non per ultima la flautista il nostro maestro la nostra Rosa Rosa Mazzei per ultimo davvero per ultimo Fiesta e Barrelli Fiesta e Barrelli Unisdirti unisdirti . dobbiamo ringraziare Tutto lo studio in collettivo Dedalus Ad iniziare dal nostro Angelo Custode Mario Artese Per la pazienza, la competenza E tutto quello che ci ha offerto e ci ha dato Deggi a me una sigaretta e 500 chinesi E quello che ci ha dato durante questi mesi Il maestro Fabio Pepe L'amico Sergio Artese Lo zio Giuseppe Ballona Poi ovviamente anche l'ingegnere del suono L'unico e il solo, l'amico Checco Pallone E poi gli ospiti Gli ospiti in questo disco sono stati Giuseppe Pozzo alla Fisarmonica Giuseppe Oliveto al trombone E ovviamente Checco Pallone alla chitarra Grazie a tutti Il maestro Gallino al violino Non avevo scordato come il suo Gallino